Buona gana amici amiche, benvenuti Benvenuti a questa nuova puntata qui su House of Lords, io sono Lord Kick e questo è XCOM Enemy Within, missione sulla nave spaziale mega stramega enorme Allora, visto che siamo abbastanza avanti e messi bene direi di procedere però cautamente, molto cautamente A me questi mi servono, Tony Stark che cazzo scatta di qua, tanto non penso che vengano fuori Che vengano fuori animali, alieni e roba strana, facciamoli scattare tutti avanti va, che ci diamo una mossa Di guardia e anche opportunista, bene, molto bene Ciò è cosa buona e gradita Solo due di guardia? Ma penso che non ci sia un problema Ok Cosa dite? Entro, cioè qua mi sembra che ci sia un corridoio, cosa faccio? Entriamo a bomba, a bombazza o? Ma entriamo a bomba va E non c'è nessuno, benissimo Benissimo Molto bene Arzacon Scattami fino là in fondo Secondo me sono tutti nascosti dietro Dietro quella porta Ormai io i miei Tony li conosco Tony Stark Mettiti qua Allora, tu sei proprio, mettiti qua Mettiti già lì davanti Piazzati lì Isma Perfetto E per ultimo, ma non per ultimo Kandalec Che mettiamo lì Perfetto Quindi nessuno in guardia Adesso le ne prendiamo, no? Infatti sono Sono tutte dietro lì Le creature Schifide Allora Allora Tony Stark Ok Dark Evil Ti voglio qua nella Che scatto Ma che scatto Vabbè Arzacon Qua 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 Te Qua Qua Bella davanti Dai Perfetto E ovviamente il cecchino Ah io il cecchino lo metterei qua dietro Adesso mettiamo Mettiamo tutti Questo è Arzacon Guardia Dark Evil No Perché sarei tuo da aprire la porta Mettiamo tutti Di guardia Sono tutti di guardia Plane d'archivo Vediamo un po' che succede Minchia Mettiamolo di guardia Eccoli lì Ah che stronzi Dai Fatemeli fuori Sì Dieci Sì Sì Colpitemeli 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 Vi prego Vi prego Vi prego Sì No Mancato Cazzo No Vabbè Adesso spareranno Dai 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 Ti prego No Isma Cazzo T'ho messo davanti anche Anche per prenderle Di modo che Tocca ancora a noi Eh la madonna Eh Sto aspettando I vostri comodi Pagliacci Pronto C'è qualcuno In linea Ok Ok Si erano un attimo Addormentati Poveri cocchi Allora Vediamo un po' Il da farsi Va Dai qua Li prendiamo tutti Eh Qua li prendiamo tutti Vai Che figata Benissimo Vediamo Che mossa fanno Io però Non mi fido Io Non mi fido Cazzo Guardalo Li Affanbagno Vediamo un po' Dai non ha molti danni Qua Minchia Ci ha spaccato su tutto Vai Ardekon Vai Grande Mi muovo No Ma che palle Eh Per fortuna Per fortuna Deve avere qualcosa Che Che il primo colpo Manca sempre Come 39 Come 39 Ma vieni Impeto di combattimento Ma spacchiamo Su tutto Spacchiamo Ma è con un bel 62 Ciao Ciao Merdaccia Dai direi che va bene Fa niente Anche se questo qua Un po' Adesso lo rimettiamo In pista Subito Guarda Ci abbiamo quattro cura ferite Podonna Com'è nuovo Com'è nuovo Vediamo cosa succede Ok perfetto Qua che cazzo Ah ok Là c'è un'altra porta Però Andiamo avanti Andiamo avanti I cauti Minchia Che mega portellone Là ci sono i I super Eh Là c'è I big money Ci sono Ok Là ci sono I big money I ragazzi Dietro là Ok Perfetto Si serve a poco Fare questa azione Ma va bene Tanto Anzi Dopo quasi quasi Li mando tutti Direttamente Avanti Chi si è visto Si è visto Eh infatti Sono tutti da dietro Attenzione Però qua è sbragato Si può vedere Attraverso No 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 Attenzione Attenzione Ok Attenzione Perché Là Essendo aperto Non mi piace Per un cazzo Vediamo un po' Se mister Riesce a A Cazzo No Non ha il Niente Non ha la storia Da tirare Il Perché io Gli avrei tirato Volentieri Una roba dentro Giusto per vedere Quanta gente C'è Allora Allora Eh se io vado là E gli faccio Cucù Mi sa che Me ne danno Bello Mi piace Qua su Eppure Non vedo Io quasi quasi Ti mando Ti mando Già Qua Una navicella Della madonna Questa Eh non vediamo niente Eh vabbè Meglio Tony Stark Che dovrebbe stare Un po' Più indietro Ma Spavaldo Lo mando Tu potresti Anche ricaricarmi Vediamo cosa succede Abracadabra Esce qualcosa No È qua L'ha puntato Annusato che nell'aria C'è qualcosa Ah si Vediamo Si nasconde dietro Eh la ma Eh la madonna Ma quanto cazzo Ah arriva qua Madonna ma sembra La navicella finale La Ha la faccia Non è che ci sono capitato Dentro Ah madonna Ma quanto cazzo È grossa Sta roba qua Eccoli lì Guarda che stronzi Guardali lì Eh si Scappa Scappa Faccio anche io lo stesso Fino a 5 danni Lancia mina Fino a 8 danni Che posso lanciargli una mina di prossimità Certo che gliela posso lanciare Desplegando mina Desplegando mina Eh si Moltoni è già stato Messo di Questo mi sa che Stannatore Vai stanatore Guarda guarda che stronzini Guarda guarda Avvelenato avvelenato Bella lì Bella lì Mamma mia Mi piacciono i piani Riusciti bene Bella lì Bella lì Eh Fino qua è scatto Quanto 35 Dai prova Cazzo mancato Vabbè Beh abbiamo tolto una colonna Che disturbava Era Era effettivamente Fonte di Bene Adesso che siamo tutti di guardia Prepariamo a prenderne Tante Ma tante Vediamo Vabbè Finchè mi sparano sul tank Come si dice Adesso io qua Gli faccio una bella sorpresa Perché Allora Attenzione Posso sparare Vediamo No Cazzo Perché non me l'ha preso Ma va Affanculo Vai al 75 Vai con lo stannatore Posizione confermata No no Che granata aliena Tutti di guardia Vai Questo si ripara Cucu Dai Dai Bravo Gli ha fatto 8 Grande Cazzo Che stronzo Minchia 9 critico Alla faccia Mi sa che Da questa missione No 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 Molto male Molto malissimo Cazzo M'ha preso Chi m'ha preso Controllato mentalmente Chi Chi Come non puoi combatterlo Ciccio Ma che cazzo Sta a fare Ma sei scemo A bingo bongo Rai del congo Benissimo Che cazzo M'ha preso Ma no Ma dai Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Dai Ma che cazzo Tra l'altro M'ha preso Proprio sotto il controllo Quello più forte E vabbè E vabbè Che cazzo Volete fa Ah però No Ma Mi spari anche in faccia Ma sei stronzo Stronzo due volte Perché sei un alieno Stronzo Vai Vai Scema Che tu non manchi mai niente Vai Lì Dai che è morto Dai che è morto Quel buffone Ma che cazzo Ma che palle Ma quanti ne hai Di colpi Eh vabbè Dai Adesso ti libero Della morsa Del Dell'alieno Lì Dai che facciamo Saltare la mina Si cazzo Sì 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 Adios Stronzo Adios Dai che ne mancano solo due Cioè Non sono pochi Ma Almeno Mamma mia ragazzi Che Avvelenato Bell'importante che stiano lì Belli avvelenati Eh questo Ma dai Cazzo 15 di critico No 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 Non uccidetemi Ma porca miseria Sti due pagliacci qui Ecco il terzo No Questo mi fa fuori Questo ve lo fa fuori Porca miseria Vabbè Ragazzi Dopo questa missione Vi giuro che State in infermeria Per tutto il tempo Che Che volete Questo non lo becca Questo non lo becca Almeno Una cazzo di granata La puoi lanciare Dai che uno è quasi morto Dai che uno è quasi morto Ma come al 20 dai Ma va a cagava Ma che cazzo Ma vaffanculo Aspetta un attimo Colpo in testa Che ha ridotto male Piano soldato Eh piano soldato Ma Mi sa che qua poi Ci prenderemo tutti Vaffanculo Ti è meglio che intanto Ti metti lì O soldato O soldati Innamorati Eh Aspetta Madonna Dai No Vedo già che sbaglia Ma Porca Porca Cazzo Mi fanno un culo così Sti Tre pagliacci Qua adesso Aia Aia Porca La miseria No Sono morto Sono morto Mi muore Dalek Mi muore qualcuno Lo sento Puttanica Aia Cioè ma sono forti Sti tre No 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 figli di puttana No Avete rotto il cazzo Adesso Veramente Morite Cazzo Nel panico Bene Bene Nel panico Ti sta bene Come al 26 Come al 26 Fuoco in corsa Mamma mia Prendiamolo da qui Mamma mia Guarda che se ti prendo Guardalo là Dai Sì Cazzo Non basta Cazzo Non basta Cazzo Non basta Ci vado ora Cazzo 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 Umogeno lanciato Dai Dai Shivan Poco in corsa Vai 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 E pacifica No No Perché non posso salire Cazzo Cazzo Perché sono tutti qua a bloccarmi Vaffanculo Dai Dai ammazzatelo Dai ammazzatelo No Dove cazzo spari Dove cazzo spari Dove cazzo State sparando Minchia Cazzo Per due Stronzi di merda Vado a perdere i soldati Ma vai Affanculo Vai Guarda No Mamma che culo Mamma che culo Mamma che Mamma che culo Mamma che culo Mamma che culo Mamma che culo Vai affanculo Culo Coglionato Adesso mi fa 18 di critico Adesso mi fa 18 di critico Vai 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 Evil Pacifica Pacifica Minchia ragazzi Ho avuto Un mancamento Fino alla fine Veramente Porca miseria Madonna Mia Che cazzo Era andato tutto bene Fino alla fine E che quelli lì Sono veramente Tosti Sono I berserk Corazzati Dai Ditemi che almeno Ho tutti i promossi Dai Ma va cagà Ma va affanculo Neanche una promozione Dai Ma vaffanculo Cioè evil Cazzo evil Tutti feriti Tranne Arzacon E Jesus Tutti feriti Tutti gravemente feriti E neanche una promozione Guarda Vaffanculo 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 Sono proprio Scusate per queste cose Che sto dicendo Ste parolacce Ma stai zitta Puttana Stai zitta Chiudi nei laboratori Perché se vengo giù Ti strangolo Guarda Ma vai a cagare Ho fatto tutto Scrivetelo sui libri di storia È la fine di un'era per l'umanità Potremmo anche sconfiggere gli alieni rimasti Ma poi? Avremmo sacrificato la nostra umanità Vabbè Eh niente Qua E se riuscissimo a sfruttare ulteriormente questi poteri Non rischieremmo di venirne consumati Come è successo a loro Ma zitto Zitto Devi stare zitto Cazzarola Ma si può che non ho Tra l'altro Quelli più forti Sono tutti Più forti Sono soltanto due Tra l'altro Dalek Ma perché non mi ha portato in alto? Che palle cazzo Vabbè Eeeh Ma andiamo un po' avanti la La roba Oh Camera di Golob fatta Almeno quella Camera di Golob Bene Nuova costruzione L'ultima Crea strutture Che cazzo possiamo costruire qua? Oh cazzo Facciamo un altro laboratorio Ma non serve più una minchia Lasciamolo vuoto Ci faremo i cessi Ci faremo i cessi Ah la cameretta di Golob Andiamo a vederla Che bella Che bellina Ah che bellina Andiamo a spiare Chi c'è la? No non c'è nessuno Che lazzaroni Lazzaroni Qua è quello che stava per spaccar su tutto Questo è l'addestramento Bene E qua niente Le caverne L'uscita di sicurezza E niente Adesso magari andiamo nella Direi nella ricerca Al laboratorio genetico Scegliamo altri soldati Per Ah dark evil Cosa ti posso dare? Ah no Tu sei a posto Dark evil Sei Buono Direi a questo punto Arzacon Eccolo qua Pella Per esempio Ho avuto un capo inetico Allo strangamento Eh buono dai Confermiamo Scegliamo un altro soldato Facciamo Un colo HP Che è completo Kandalek Ci manca Occhi Percezione La posizione è rialzata Menta di 5 la mira Nel 5 la posizione è di 5 Questa non è male Però Posizione è rialzata Mi piace di più Eeeh Direi John Shepard Un altro assaltatore Minchia non c'è niente Poveretto Per un turno Ok Inflige da Facciamo questo va Confermiamo Benissimo Dai Non ora Che non ce li ho Benissimo Bene ragazzuoli Io mi fermo qui Fatemi sapere Come vi è sembrata La missione Che ovviamente Mi sono scusate Per tutte le brutte parole Che ho detto Ma ero proprio Incazzato nero Ci vediamo Per la prossima puntata Ci stiamo avvicinando Alla fine Restate come sempre Sintonizzati E awanagana Grazie a tutti Sintonizzati